Sergio Nava, gli allestimenti di Sublime Living qui in Marangoni raccontano una ricerca in corso da tempo che guarda molto al futuro e all'uso delle nuove tecnologie, ce ne vuoi parlare? Sublime Living è appunto, come diceva, un punto d'arrivo di una ricerca che dura da anni, nella quale l'Istituto Marangoni, la nostra scuola, vuole cercare di capire quali sono le nuove sfide del design, quali sono i futuri possibili, infatti questa tematica sta sotto al macro tema che sono gli orizzonti senzienti, quegli orizzonti che stanno per arrivare e non sono ancora definiti. Nella mostra Sublime Living, infatti in collaborazione con Poltrona Frau, gli studenti del Master in Interior Design hanno voluto immaginare come potrà essere il mondo fisico nell'epoca della mixed reality. In poche parole ci siamo voluti più concentrare nell'andare a riprogettare gli spazi fisici per far sì che possano in qualche modo accogliere il digitale in maniera dolce, quindi il fisico deve diventare un contenitore dove elementi, contenuti digitali entrano in sinergia e quasi diventano un'estensione del fisico e viceversa. Design è usato come un sinonimo di creatività oggi, sempre di più. Questo da un lato è positivo ma dall'altro può creare dei problemi forse. Volevo una tua riflessione in merito. Design vuol dire progettare più che creare. E il progettare è legato a delle regole. Per esempio siamo in un'epoca in cui le tecnologie stanno accelerando e alcune vengono utilizzate anche per accelerare la creatività. Secondo noi le tecnologie devono essere accolte e devono andare a supporto dalla progettazione ma in maniera controllata, cioè devono essere utilizzate delle regole per utilizzarle in maniera professionale e per far sì che la progettazione segua un suo corso professionale. Matteo Agatti, in Sentient Horizons esce bene questa dimensione esplorativa del progetto. Ci racconti questo progetto di mostra? Il termine utilizzato è esattamente corretto. Questa mostra vuole essere una mostra esplorativa, cioè un'exhibition in cui il visitatore può essere l'esploratore e può teletrasportarsi fondamentalmente ovunque pur rimanendo fermo nello stesso posto. Quindi attraverso i progetti dei ragazzi, degli studenti quindi che sono stati utilizzati all'interno della mostra, il visitatore è in grado di addentrarsi all'interno di ogni progetto ed esplorarlo pur rimanendo all'interno della mostra stessa. Come questa mostra esplora i futuri possibili del design? Facciamo anche degli esempi. La mostra è fondamentalmente una rappresentazione fisica dell'approccio che gli studenti all'interno dell'Istituto Marangoni hanno e lo si può vedere anche all'interno dei progetti presenti nella mostra. Questa mostra è composta da una combinazione di elementi che va a sviluppare diversi sensi del visitatore. Quindi sicuramente il senso visivo, perché attraverso questa struttura d'archi e questa grafica che evolve e cambia, il visitatore si sente teletrasportato appunto in diversi luoghi. Ma ci sono anche elementi interattivi, quindi anche da un punto di vista tattile e proprio di interazione il visitatore può intervenire all'interno della mostra e dei sensi sonori. Per esempio abbiamo collaborato con Chiara Luzzana, che è una sound designer, che è riuscita a campionare tutta una serie di suoni legati alla scuola e ne ha rappresentato e riprodotto poi una musica che è stata fondamentalmente la colonna sonora dell'exhibition stessa. Fondamentalmente tutti e tre i dipartimenti hanno lavorato all'interno dell'umanizzazione della tecnologia e di come rendere più comprensibile una tecnologia che magari in un futuro può spaventare e quindi non è un controllo della tecnologia ma è un rendere una tecnologia più amica perché in questo modo riusciamo poi a utilizzarla in modo anche eticamente magari corretto per sviluppare il design ma il futuro in generale. La tecnologia è da sempre, secondo me, da considerarsi uno strumento che poi è in grado di rendere possibile una mente visionaria. Quindi la visionarietà è l'origine, la tecnologia è il ponte.